Sono Cecilia Garetto, componente del Consiglio Direttivo di Federalberghi di Torino, faccio parte del Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino in rappresentanza di Federalberghi. Negli ultimi vent'anni le imprese al femminile sono cresciute molto, se in numero che in complessità, questo sicuramente grazie a una nuova mentalità ma anche grazie alla nascita dei comitati che hanno dato degli strumenti a supporto alla nascita e allo sviluppo delle imprese al femminile. Anche il Comitato dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Torino quest'anno compie vent'anni dal suo insediamento e quindi è per noi un anno in cui dobbiamo fare un bilancio, vedere cosa abbiamo fatto e soprattutto vedere cosa ancora c'è da fare. Anche i vertici aziendali sono sempre più occupati da donne, questo ci dà un ottimo stimolo ma ci fa capire che c'è ancora tanto da fare e però ci fa sperare per il futuro.